Ed eccoci qua, eccoci qua, sempre di notte, sempre in silenzio e sempre con il microfono e la cam accesi. Oggi è stata la giornata mondiale della gentilezza. È nata in Giappone negli anni 80, ho letto prima e dopo ho preso piedi in tutto il mondo, insomma. Ma sta cosa delle giornate mondiali di qualcosa? Per certe, e sottolineo solo per certe, sia ben chiaro, mi hanno sempre fatto un po' ridere, non so come dire. Cioè, bisogna ricordarsi una volta all'anno di essere gentili. Soprattutto bisogna ricordarsi, forse perché la gentilezza se n'è comunque andata. Cioè, questo è il fatto. Infatti oggi ho fatto una frase, ho scritto una cosa su una mia tavoletta, gentilmente ho scritto, che fine ha fatto la gentilezza? Forse se n'è andata a farsi un giro con la sincerità, la coerenza, la serenità e un bel po' di promessa, insomma. La verità è che, secondo me, la gentilezza è veramente, cioè, non dico che sia sparita del tutto, perché non bisogna essere catastrofisti o cose del genere, sia ben chiaro. Cioè, diciamo che ci sono delle roccaforti che resistono e esistono, di persone comunque gentili e cose del genere. Però la direzione del mondo, quando il mondo va in una direzione, ok, è difficile farlo tornare indietro, se non impossibile. Infatti oggi ho detto una persona come il prezzo della benzina. Cioè, per carità, oscilla, ma aumenta di 5, dopo torna indietro di 3 e comunque aumenta, cioè, non potrà mai tornare. Sarà sempre ogni anno che aumenta un po', ok. E la gentilezza più o meno è una cosa del genere, come... Cioè, viviamo in un mondo dove veramente siamo ancora gentili. Io non so, cioè, è una cosa... Basta andare in macchina per la strada. Veramente è una guerra. L'ho già detto e lo ribadirò fino alla fine. Cioè, è una guerra ormai andare in macchina. Non ti fa più passare praticamente nessuno. Ci sono le eccezioni, ok. Ma una volta era l'opposto. Erano molto più le persone che si comportavano bene di quelle che si comportavano male. Adesso invece corrono tutti, ti mandano a fanculo, non mettono più frecce e cose del genere. E come ho fatto l'esempio comunque della strada, della macchina, potrei farvi altri mili esempi. E per questo che dico, che la gentilezza forse se n'è andata a farsi un giro, a nascondersi un po' con la coerenza, con la sincerità, con la serenità, che sono tutte cose che ultimamente non vanno molto di moda. E non so, ripeto, per lo stesso discorso che ho fatto prima, non so come potrebbero tornare di moda. Cioè, la sincerità. Con i matrimoni che falliscono il 50% di persone divorzia. La sincerità, secondo voi, è di moda, ok. La coerenza è di moda. Cioè, dire qualcosa e dopo portarla effettivamente avanti. secondo voi? È una cosa che va di moda, è una cosa che si fa. Sulla serenità neanche neanche mi so faremo di più, perché soprattutto negli ultimi due anni la serenità, al di là di cose personali, cose del genere, cioè, chi di noi effettivamente è sereno? È stato sereno negli ultimi due anni. Dopo anche sulla gentilezza mi viene in mente il fatto che comunque non so se vi rendete conto a che punto siamo. Ho intanto dei discorsi seri, generali, e non che riguardano solo me, li faccio anche. Siamo uno contro l'altro, ok? Se tu hai una volta, quando praticamente uno aveva delle opinioni diverse, non è che uno si scannava, ok? Si scannava allo stadio una volta. Non so come dire, era una cosa diversa, ci si scannava, ma dopo ok, cioè... Adesso invece siamo gli uni contro gli altri, non rispettiamo più le idee diverse. Non è che diciamo tu hai un'idea diversa, io ne ho un'altra, pazienza, fame. Cioè adesso noi pensiamo di avere tutti la verità assoluta, noi pensiamo di essere dalla parte del giusto. E se si fermasse qua la cosa, ok? Ma il problema è che offendiamo gli altri, diamo la colpa agli altri delle nostre frustrazioni. È questo il problema di fondo. È questo per cui la gentilezza di accettare un'opinione diversa, non c'è più. È questo il fatto, non c'è più, cazzo. Non c'è più. Ormai se la pensi in maniera diversa da me, tu diventi in automatico un coglione. E io divento in automatico uno che penso di sapere tutto, ok? Invece una volta io mi ricordo che la gente quando non sapeva qualcosa, quando non era informata di qualcosa, ok? Stava zitta, cazzo. Quando pensava di non essere informata di qualcosa, stava zitta. Adesso mi sembra che sia una gara a chi pensa di avere la verità più giusta, a chi pensa di essere più dalla parte del giusto, a chi pensa di essere perfetto, di non avere difetti. L'orgoglio, eh? L'orgoglio. Una volta uno riusciva a metterlo da parte, l'orgoglio. Adesso invece l'orgoglio ci fa dire cose, ci fa fare scelte, ci fa come dire, sì, vabbè, è colpa degli altri. Non è colpa mia, è colpa degli altri. Se viviamo un particolare periodo, è colpa degli altri. Non ci assumiamo praticamente più colpe. Diamo sempre, comunque, la colpa agli altri. Per questo che dico, sì, sarebbe un mondo più bello senza giornate mondiali di qualcosa, perché vorrebbe dire che non c'è, non ne abbiamo bisogno. Tra poco ci sarà quella contro la violenza sulle donne e anche questa cosa qua, che comunque io ho sempre, da anni e anni e anni, scritto qualcosa, dato cose ad associazioni, cose del genere. Però anche là, per un giorno tutti condividono qualcosa, per un giorno tutti contro. E dal giorno dopo vedi sul giornale sempre le solite cose e aumentano, aumentano sempre, non sono mai diminuite, aumentano. Non c'è un mondo dove diminuisce questa cosa. Aumenta sempre tutto. Per questo che spero, spero, vorrei, ma so che è molto difficile, un giorno dove se una persona dice una cosa, se una persona dice io sono contro la violenza sulle donne, anche tutto l'anno penserà a sta frase e la metterà in pratica. Non un giorno all'anno perché vede magari su Facebook un link, perché è questa cosa qua. Stessa cosa per la gentilezza di oggi. Tutte quelle persone che dicono, eh sì, manca, eh sì, manca. Dovremmo farci tutti, secondo me, un esame di coscienza, ok? Credo sì, è un mea culpa. Decisamente. Buonanotte.